Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di incidenti ormai risolti si registrano ancora 3 km di coda tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna e code a tratti tra Firenzuola e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove a causa di materiali dispersi si segnalano rallentamenti tra Prato Ovest e Monti Cateniterme in direzione Pisa. Spostiamoci in Fipili dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti invece in direzione Livorno. Rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Bargino e Imprunita Greve e Incheanti in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!